Un tricolore, sempre sventolerà, in città. Siamo col nuovo allenatore del volley tricolore, Vincenzo Mastrangelo. Innanzitutto ben arrivato, in bocca al lupo per la stagione. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura al nord? Tanto entusiasmo, ricreare tanto entusiasmo nel palazzetto, nel Palabigi, portare tanta gente al palazzetto. E questo so che l'unica medicina è la vittoria. E quindi organizzare e fare di tutto insieme alla società per allestire un roster di tutto livello che ci permetta di riportare al reggio nel palazzetto tanti appassionati di pallavolo che magari in un anno o per altre situazioni si erano un po' allontanati dal palazzetto. Il roster è ancora in fase di definizione anche per il fatto della formula di campionato che è cambiata un'altra volta. Cosa ti aspetti da questa nuova formula? Ci divertiamo ogni anno a cambiare le regole. Ogni anno le società, gli allenatori devono fare di tutto per adeguarsi e adattarsi a questo. Non è una bella cosa, secondo il mio parere, però lo facciamo. Adesso mi aspetto di allestire una squadra che ci permetta di arrivare nelle quattro del girone, nelle prime quattro e per poi star lì in quella che dobbiamo definire essere la 2 o la 1 o Serie A. dobbiamo ancora dargli un nome, però sono convinto già dai primi acquisti, dal roster che stiamo allestendo che sarà un anno importante per tutti, sia per la società, per me e per i ragazzi. E il primo impatto con la società come è stato? Ma non è il primo, ormai sono un po' di anni che ci siamo sempre incontrati sui campi, di avversari chiaramente e quindi sono convinto che sono in una società seria, fatta di persone serie e questo era il mio primo obiettivo da un po' di anni. e quindi sono convinto di questo e quindi ho sposato subito il progetto appena mi è stata data la possibilità di farlo. Sono contento di venire ad allenar in Emilia e quindi ho molta, ma molta voglia, molta, dettata da ovvi motivi, di far bene, quello lo abbiamo tutti e tutti gli addetti ai lavori, chi fa il mio mestiere ha voglia di far bene, però ho tanta voglia perché mi manca il palazzetto da dicembre quindi devo entrare in un palazzetto e allenare perché sennò qua diventa difficile. Allora in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi il lupo, grazie, grazie ancora, grazie a tutti.